. Beautiful, anticipazioni americane, ridge e bruchi in crisi a causa delle figlie I matrimoni di Beautiful non durano mai a lungo, lo sanno bene i telespettatori della sop americana che, nella sua storia trentennale, hanno visto storiche unioni vacillare in pochi mesi, anche quando lamore sembrava aver trionfato dopo lunghe sofferenze. E lo sanno ancora meglio i fan di Steffi e Liam, la coppia più amata del momento, che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con il tradimento della Forrester insieme a Bile tutti gli annessi del caso. Ma unaltra coppia sarà chiamata a breve ad affrontare un nuovo periodo buio, a distanza di pochi mesi dal fattivo sì. Anticipazioni Beautiful, le diverse opinioni dei Bridge. Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Ridge e Brooke si schiereranno dalla parte delle rispettive figlie, a loro volta la conquista del cuore di Liam. . Quest'ultimo, convinto che la relazione di Bile e Steffi non sia mai giunta al termine, chiederà a Hopi di sposarlo e lei accetterà. . Brooke condividerà con la figlia la felicità ritrovata e si dirà certa che l'Ope, finalmente insieme dopo anni di separazione, siano la coppia perfetta. . Di diverso avviso, invece, sarà Ridge, quest'ultimo non crederà che Liam possa avere cambiato idea tanto velocemente su Steffi e che dietro alla sua inaspettata decisione di sposare Hopi. . Ci sia in realtà un nuovo intrigo di Bill Spencer. . Lo stilista non si sbaglierà a pensare questo, sarà proprio Bill, sfruttando l'ingenuità di Wyatt, a scatenare la gelosia di Liam. . L'opinione di Ridge sarà condivisa anche da Taylor, che tenterà di aprire gli occhi a Brooke, dando vita ad un nuovo scontro verbale con la sua storica rivale. . Spoiler Beautiful, Brooke e Ridge in crisi. Le puntate di Beautiful dell'ultima settimana di maggio saranno caratterizzate dal matrimonio di Hopi e Liam. Arriverà il giorno del fatidico sì che però potrebbe riservare grandi colpi di scena, sarà Steffi a fermare l'ex marito prima che sia troppo tardi. . In attesa di scoprire tutte le evoluzioni del caso, vero fiore all'occhiello delle trame primaverili, Brooke e Ridge continueranno a vivere dei momenti di forte tensione. . Gli spoiler precisano infatti che i coniugi Forrester vivranno in maniera completamente diversa la vigilia delle nozze di Hopi e Liam. . Come reagiranno di fronte alla decisione definitiva dello Spencer. Rumors insistenti segnalano che anche il matrimonio dei Bridge arriverà presto alla fine e che a beneficiare di questa nuova situazione sarà niente meno che Taylor. . Un ritorno di fiamma tra la psichiatra e Ridge, a questo punto, non sarebbe affatto da escludere. . 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